Dovenica stavamo parlando con Espy Gioche, riflettendo insieme a lui su quale possibile nuova miniserie da portare Ci ha consigliato Don't Bite Me Bro e in effetti, in effetti, in effetti, quando l'abbiamo visto il primo episodio da lui Ho pensato, questo gioco è fantastico, però avevamo un sacco di cose da fare che mi hanno detto Dai, lasciamo perdere, abbiamo troppi giochi, se portiamo anche questo succede un casino Quindi lasciamo perdere, però in questo momento qualche spazzettino nella settimana c'è E secondo me è fantastico, quindi proviamo a fare un episodio e vediamo se vi piace E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono 7 che siete chiamati Don't Bite Me Bro E siamo qui prontissimi ad iniziare la nostra avventura Siamo in due, si può giocare assieme, quindi questa è una delle cose migliori E siamo prontissimi Allora, 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 spieghiamo velocemente il gioco A sinistra vedete che una barretta piano 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 sta aumentando Ecco, quelli sono degli zombie che stanno venendo ad attaccarci Quindi chiariamo subito questa cosa Noi però abbiamo questa specie di recintino, bellino bellino Che possiamo fortificare sempre di più per difenderci dagli assalti degli zombie Quando appunto siamo in questi momenti di pace in cui gli zombie sono lontani Possiamo cercare di esplorare la mappa per raccogliere le risorse Cercare qualcosa di utile, cibo, eccetera, eccetera Per cercare di aiutarci a sopravvivere In pratica come succede su Walking Dead Che si ha il rifugio, poi si va nelle città a cercare le risorse Però gli zombie sono carini in questo gioco Lo so, è tutto carino Anche quello conta Steph, ti devo dire una cosa Dimmi Fere Fere, non sei simpatica Abbiamo la possibilità di fare, di craftare le cose In questo caso io voglio craftare dei muri per sistemare le parti che ci mancano Steph, mi stai chiudendo fuori No, Fere, da qui c'è la porta Ah, ok, perfetto, allora è tutto a posto Che bello Scusa, non conosci neanche il tuo stesso rifugio? Cosa posso fare? Mi voglio rendere utile Allora, è impossibile Allora, se tu stai facendo un recinto io posso fare le coltivazioni No, no, ma, fammi fare nulla Dobbiamo sia rinforzare i muri E per farlo basta che ti avvicini a un muro e ti compare upgrade Ok, ottimo, ottimo Sia creare gli spuntoni In particolare mi piacciono questi qua Quindi, semplicemente, fin quando non arrivano gli zombie Prendi tantissima legna Ok, dai ci penso io Il più veloce possibile, vai 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 Allora, cosa succede se esco da questo piccolalone? Si sposta la telecamera Ah, pensavo che fosse una zona un po' più pericolosa Non so perché mi sapeva di zona più No, 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 dovremmo essere abbastanza tranquilli in giro Finché non arrivano gli zombie Sì, dovrebbe essere una roba abbastanza pacifica Se tu ti metti qua, inizi a dare tutti i tuoi materiali In questo modo, vedi, abbiamo tutto qua E abbiamo 103 di legna Automaticamente quando vuoi costruire Prendi la legna da lì e costruisci Ah, ma quindi abbiamo anche le risorse in comune Sì, però prima di fare quello Distruggi un po' di piantagione per mangiare Che è importantissimo Allora, vai al calderone Ok Premi Q O X, boh, non so che tasto è il tuo Ancora? Un'altra volta, basta Ah, e adesso sono a posto, diciamo Piena di vita Piena di vita Ok, perfetto Adesso, vieni fuori Tu vai al lato destro Io vado al lato sinistro E costruiamo gli spuntoni Quindi Opla Bisogna anche girarli Quindi bisogna essere bravissimi Allora, fammi vedere un po' come funziona Uno Veloce, veloce Fere che stanno per arrivare gli zombie L'inquadratura ci sta dando Dall'altissimo E lo so perché staranno arrivando gli zombie Corri Fere Ce la faccio Finici gli spuntoni Spero che la prima ondata perlomeno sia abbastanza gestibile 8 Sono 8 zombie Ok, ok Non so se sono molti o pochi personalmente Eh, non so quanto sono forti Esatto, esatto È quello il problema Bisogna vedere Sono arrivati Allora, vieni con me Fere Ci sono Ok, allora Allora, uno dall'altro Uno dall'altro Ok Perché adesso non so da che parte arrivano Quindi è meglio coprirci il meglio possibile Concentrata, eh Ci siamo Uh, arrivano tutti da te Ma no, perché? Io stavo scherzando Vieni con me Vieni con me Aiuto Allora, ti conviene ammazzarne uno alla volta Se li vai troppo addosso Ci spaccano la faccia Quindi aspetto che mi arrivino qua È dato, vai Fere Bravissima Ci sono, ci sono Cerca di perdere la mia novità possibile Ci provo Ok Ah, questi muoiono adesso lì con gli spuntoni Sì, però magari si rompono un po' gli spuntoni Quindi Ah, evitiamo di farli andare addosso Ok, ok, ok Esatto, esatto, esatto Fere Qualcuno Chi è? Salve Buongiorno Ok Ah, ci vende davvero qualcosa Ci vende qualcosa Eh, ma Con che valuta? Penso i cuori C'è questo ossa Non lo so Amico Abbiamo una Guarda sotto Lei è inquietante Se lo faccio dire Scusi, eh Però vendere il caffè per ossa Non mi sembra molto normale Vabbè Arrivederla Gli piaceranno le ossicina degli zumbi Fere, andiamo in questo quadrato qua alla sinistra Dove c'è quella luce che lampeggia Ok, ci sto E vediamo cosa c'è Vieni, vieni, vieni Eccomi, eccomi, eccomi Ok Una caverna No, ma non è bello Ascolta, entriamo, entriamo Cos'è? Entriamo nelle caverne Allora, non è una cosa molto sicura Contando che abbiamo solo una mazza E non siamo minimamente esperti di questo mondo Cos'è? Cos'è, secondo te? È pane! Oh, mangio! Mangia, fere! Che buono! Oh, da quanto è che non mangiavamo pane? Vieni, che l'amera Mangia tutto, mangia tutto Ok Ok No, no, non cucinare Siamo pieni di vita Quindi non ci serve Io Oh! Scappo! Non è dietro! Non possiamo scappare! Non è dietro! Uccidi! Uccidi! Aiuto! Ma sei pazzo! Capito che prima ti danno il cibo Per farti sentire a casa E poi vengono a mangiarti loro E diventi tu Allora Stiamo in questo posto a destra Ok E c'è la seconda zona Ok Ok Se ho ragione Andiamo al secondo quadrato Andando qui Non ho neanche ragione Vabbè, vabbè, vabbè Picchia, picchia, picchia Stiamo vicini Sì Ok Andiamo, andiamo Sotto a te cose strane In questa giocca Eh Oddio, no Ci stiamo perdendo Non riusciremo mai a uscire E ci toccherà continuare La nostra ministeria Mangia, 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 mangia In una caverna Però vedi Secondo quadrato Oh, mamma Ma io volevo solo andare in città Non fare queste brutte cose Anche io non mi aspettavo Che ci fosse un posto del genere Comunque è tipo un dungeon Di sicuro Cibo Oh, le cionbelle Guarda, che buone Che buone Che buone Andiamo di qui Ah Che cos'è? Che non sta succedendo? Attenzione Aiutami Non devi picchiare Le palline, le palline No, levati dalla pallina Non la devi più picchiare No, no, levati, levati Esplode Boh Ehi Io vado Ma non succede Che succede? Forse era l'uscita Ma ci sta succedendo Cosa ci sta succedendo? Sono confuso Anch'io tantissimo Malamente confuso Era l'uscita Ok Eh, però io ormai Vabbè Mi stava piacendo Va bene, grazie Di fatto ci siamo fatti Un sacco di ossa E un sacco di cuoricini Per poter piantare Altro grano Quindi Secondo me È andata bene Io inizio a dare Tutta la legna Alla base Così hai tutta la mia legna Ok Si può potenziare anche La casettina però Sì, ho visto Però cento Eh, ma ce li abbiamo Ed è no, aspetta Facciamo le mure E poi la casettina Vabbè Ma ti avevo detto Di fare solo dove Non ci sono gli spuntoni Eh, ma io faccio tutto Guastafeste Guastafeste, guarda Questo non l'hai fatto Perfetto Manca solo il lato destro E non riusciamo a finirlo Sì, però Siamo messi bene Abbiamo potenziato Diciamo quasi tutto Quindi siamo messi bene Ok E io faccio questo Perfetto Ne mancano pochi Guarda Il grano sta crescendo da solo Quindi Praticamente Con due cuoricini Pianti Quattro di grano Che credo valgano Quattro cuoricini Ok Quindi No, va benissimo È un investimento a lungo termine Andiamo a rubare Nelle cose Che bello Fere, fare, fare Ci sono zombie Oh no Lo vedi questo Oh no Dove sei? Ok, è morto Vabbè, non c'è più Aspetta Help find my partner Chi è il tuo partner? Che bellina E come possiamo aiutarti? Mary, ciao È la scerifesta Dentro alle spazzature Trovi il cibo Ah buono Fa comodo Quindi, giusto per fartelo sapere E nelle casette invece Sembra che non possiamo entrare Giusto? No, mi sembra di no Ok, buona sapersi Buona sapersi Raccolgo tutto il cibo Da queste parti Questa la possiamo prendere Vieni Prendila Eh, cu Ok Oh che bellina Mi ha messo dietro No Dovevo tornare a casa Guarda ci sono gli zombie Torna a casa Ok Che noi siamo qui con le macchinette Scerifesta Torneremo ad aiutarla Sì, scerifesta Torneremo Glielo promettiamo Torneremo Lo parcheggiamo qua davanti Perché lo voglio Dere un po' il furgone Ah, disse Potremmo anche prendere Ok Ok, ok Non vedevo più nulla Dicevi? Cioè ho avuto porre Che avessi distrutto Metà del nostro Del nostro rifugio Mi aiuto Cioè, allora Guardate Abbiamo Una piantagione Per mangiare E stare tranquilli Un rifugino Dove dormire Un calderone Dove cucinare Degli spuntoni Che ci difendono E una macchina Parcheggiata Diciamo che inizia bene Inizia bene Non ce l'ha bisogno Di prenderli Hai un sacco di cuori Vai lì e premi E mangi Non me lo faceva Sì, sì No, senza il grano Davvero, sono seria Non mi faceva cucinare nulla Ero due ore Che premevo l'X L'X Là davanti Ho mai visto Allora, dove sono gli zombie? Non lo so Zombie? Dove siete? Sì, sì, sì Vado? Vai? Vado? Eh, adesso sì Che la capanna Abbiamo la casetta Che bellina E quindi Di sicuro, guarda Ci sono due letti Che è una cosa molto carina Che poi vedi Che la torretta Sì Chiede dieci di legna Ma dice meno uno Secondo me intende A livello di persone Perché noi possiamo Arruolare Diciamo Sopravvissuti Farli venire a vivere con noi E dopodiché li mettiamo A mo' di torretta Per difendere il villaggio Ma è bellissima questa cosa Secondo me funziona così E invece qua abbiamo le trappole Che sarei curioso di provare Però magari la facciamo Nel prossimo video La trappola Sì, ci sta Comunque è dieci di legna Senza sapere che fanno Nel caso E potenziamo questi muri Aspetta, ci penso io Uno Due E tre Ok Upgradare di nuovo Però mi sa che chiede 20 di ferro e di legna Eh sì Eh sì Eh vabbè È perché vedi che proprio fai anche il filo spinato sopra C'è proprio Cattivissimo Però il ferro Il ferro ancora non l'abbiamo preso Quindi resta Non saprei neanche Dove si trova sinceramente Non saprei proprio Bello sto posto Ma io voglio vivere qua Scusate Mi potete ospitare Il ferro è meglio del nostro Mi sono un attimo in incastrata È bellissimo È bellissimo Aspetta Ah no Buongiorno Allora Ci chiede di ammazzare 12 persone Vieni 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 Sì Ok Andiamo Andiamo Sicuramente ci ricompensa in qualche modo Se li ammazziamo Quindi facciamolo Ah mi sono incastrata Ok Due Ok Vai fare Vai fare Spacca tutto Quindi ripara E quali Amico però ci stai dando un po' troppi ordini Eh ho notato Qui 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 Ah quelle Quelle sì Allora Aspetta ci penso io Sì Sì Ok allora Tacchete Pacchete Pacchete E basta Beh immagino di sì È che dobbiamo Se vuoi anche la torre di Pisa No lo spero Lo spero Vieni qua Allora Allora perché lo stiamo aiutando? Non lo so Non lo so neanche io Fere Perché dobbiamo fare questo? Richiede le cose E a me viene da farle Take me to your camp Dobbiamo portarla al nostro campo Ah ce lo rubiamo Guarda Vedi Oddio che bello Vieni bello Vieni vieni amico Vediamo che sarà il nostro Vedi che è una pistola Quindi lo possiamo mettere nella torretta Esatto Proviamo a farlo Mi sembra giustissimo Vieni amico Vieni che sarà il nostro nuovo guardiano Del nostro bellissimo Ma scusa Non potevamo rimanere da te È più bello Bene siamo bassini di vita Sì dobbiamo scappare Concentriati un attimo Perché qua È pericolosino Qua si rischia di morire Allora E poi anche lui può perdere vita Quindi stiamo attenti Che non voglio perdere il nostro primo collega No lo stanno picchiando Fere È bassissimo Proteggilo No non ce la faremo mai C'è il bambino che piange Scappa 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 Ok qui a destra Qui 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 Aspetta che questo lo ammazzo Ok Andiamo 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 Ma questo osso gigante Se lo picchiamo ci dà un sacco di ossa Ma non lo so che cosa sta succedendo Andiamo via Andiamo via prima che lo perdiamo Ok Vieni bello Vieni qua Abbiamo la super base Vieni Ci abbiamo fatta Fammi pure mangiare Ok Quindi è entrato dentro la nostra casetta Proviamo a fare la torretta Sì Ci esce Sì credo di sì Vediamo vediamo Allora da che lato lo mettiamo Ma la possiamo mettere anche al di fuori del rifugio Sì secondo me vedi Però Non sarebbe protetta No vai Mettila qui Mettila qui Aspetta però che la devo girare Facciamo così Sì Ho funzionato Ho funzionato No che bellino Dai è troppo bello sto gioco Cioè possiamo reclutare i sopravvissuti È fantastico Davvero davvero bello In questo modo teoricamente Se metti abbastanza trappole Abbastanza torrette Quando vengono ad attaccarci Noi possiamo stare tranquilli Ce ne freghiamo In giro a farci le nostre esplorazioni E loro lì che muoiono Esatto Bellissimo Esatto esatto Dai direi che ci possiamo fermare così Dato che se no ci finiamo il gioco Al primo episodio Che succede? Ok Ok Va bene Comunque direi che ci possiamo fermare così Fateci sapere con likes e sondaggio Se volete vedere un secondo video Perché siamo Ma non riesco a fare l'outro Ok dai continua Stiamo Fai finta di nulla Indecisi se portarlo nel senso A noi piace tanto Però bisogna capire se piace anche a voi Perché per noi ovviamente è importante che piaccia anche a voi Esatto Quindi fateci sapere con likes e sondaggio e commenti Se volete vedere il continuo di questa serie Nel caso sarà comunque una miniserie da tipo 4 o 5 episodi Esatto E ci fermiamo così Per che si riesce così Lasciateci un like E se è la prima volta che ho detto il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao